Nelle ultime ore ha circolato viralmente la notizia secondo cui Warren Buffett sarebbe smobilizzando il portafoglio azionario di Berkshire Hathaway per ammassare liquidità. Dopo aver ridotto la partecipazione in Bank of America, il guru di Omaha starebbe passando la cassa a più riprese con riferimento a quella che tuttora è la regginetta dell'estino, vale a dire Apple. Questo chiaramente ha provocato un aumento di salivazione in molti osservatori che ritengono se Buffett vende, ritengono che le elezioni potrebbero, le elezioni presidenziali negli Stati Uniti potrebbero non portare delle notizie gradite, potrebbero addirittura anticipare il caos o che l'economia sia prossima alla recessione o che peggio, quantomeno non ci sono delle opportunità di investimento per il salgio del Nebraska. Peggio ancora, alcuni ritengono questo avvisaglia di un imminente bear market, ma le cose stanno veramente così. Vediamolo in questa pillola di In 60 minuti. Dopotutto se i treasury acquistati dalla liquidità liberata dalle vendite e delle partecipazioni rendono in questo momento più del 4%, evidentemente è una forma di remunerazione sicuramente migliore di quella che in questo momento fornisce il mercato azionario. Questo è un altro dibattito molto intenso che ha preso vita nelle ultime settimane su cui vorrei tornare, soffermarmi un attimo prima di passare all'argomento del giorno. In effetti di recente lo yield del treasury decennale americano si è portato clamorosamente, secondo molti, al di sopra del rendimento del mercato azionario. Bel rendimento però qui intendiamo il confronto fra il flusso, il monte utili delle compagnie dello standard EPUL 500 e la quotazione di mercato. Quindi a quanto corrisponde in termini di proporzione rispetto al prezzo di mercato, il monte utili che viene erogato. È vero che dopo diversi anni il bond yield si colloca al di sopra del dividend yield, è vero però anche che c'è un precedente molto significativo. Nell'80, inizio agli 80, come possiamo notare da questa figura, il rendimento del treasury note si spinse al di sopra del rendimento del mercato azionario. E questo fu un evento abbastanza interessante perché come oggi si veniva da una fase di inflazione inizialmente incontrollata, se non poi successivamente con robusti aumenti dei tassi di interesse, in un contesto in cui un presidente democratico si giocava faticosamente una rilezione che in effetti non si manifestò a vantaggio di un perfetto parvenu nel fronte repubblicano. Quindi ci sono delle attinenze, c'era instabilità in Medio Oriente, c'era l'Iran che minacciava l'uccisione di ostaggi occidentali che erano letteralmente intrappolati nell'ambasciata americana, quindi ci sono delle attinenze che dovrebbero, caso mai, farci sorridere piuttosto che temere questo sorpasso storico che ripropone un'esperienza di ben 24 anni fa. Però torniamo sull'argomento del giorno. L'argomento del giorno è una notizia pubblicata da Financial Times che vediamo in questo momento, secondo cui Warren Buffett nel terzo trimestre, secondo l'ultimo rendiconto trimestrale pubblicato, ha ridotto ulteriormente la partecipazione in Apple, quindi liberando liquidità, che si è andata ad aggiungere all'ulteriore liquidità che faceva parte del bilancio della Berkshire Hathaway. È interessante perché questo porta avanti una tendenza che esiste direi da tempo. Ecco, qui possiamo notare nella prossima immagine come, secondo questo resoconto di Reuters, di Refinitiv, la liquidità, il volume di liquidità in pancia, in bilancio della Berkshire, ha raggiunto e decollato a 325 miliardi di dollari, che in termini assoluti, obiettivamente, è una cifra molto molto rilevante, sicuramente supererà al PIL di nazioni di una certa importanza, quindi soltanto la liquidità di Berkshire supera le dimensioni complessive di economie nazionali, sovrani e ragguardevoli. Fa notizia tanto più se si considera che questa liquidità è stata accumulata anche, ma non solo, vendendo quote e partecipazioni azionarie in società di grande rilievo. In passato, come dicevo, Bank of America, più di recente la partecipazione in Apple. Qui già il contrario anche a me storce un po' il naso, perché prendo atto di come Buffett faccia sempre facilmente notizia quando vende e mai quando compra, perché il fatto che la liquidità sia crescendo mi sembra un processo abbastanza fisiologico nel momento in cui parliamo di un'azienda di dimensioni decisamente ragguardevoli. Consideriamo che l'attuale capitalizzazione di mercato, un dividend yield, quindi soltanto collezionando i dividendi che le partecipazioni forniscono, renderebbe circa 20 miliardi di dollari all'anno, considerando un dividend yield medio del 2%, che è quello del mercato azionale americano. Se considerassimo che Buffett, come sappiamo, acquista spesso e volentieri compagnie value o difensive, lì il dividend yield è più elevato, quindi saliremmo a diverse decine di miliardi di dollari all'anno senza fare assolutamente nulla. Ma quello che mi incuriosisce è che in India difficilmente, bisogna fare veramente molta fatica per individuare notizie di acquisti, di impiego della liquidità per acquisti. Abbiamo visto poco fa l'acquisto di Salenta, alcuni mesi fa, di una partecipazione in una fintech, quindi una compagnia bancaria di ultima generazione, più di recente negli giorni passati, Buffett, come qui possiamo vedere, ha acquistato, ha raggiunto, ha accumulato ulteriormente una partecipazione nel Sirius XM, che è un'altra compagnia sicuramente che possiamo considerare sicuramente growth, quindi direi tecnologica, sicuramente non difensiva, non conservativa, però questo stona con la narrazione di un saggio molto ponderato nelle sue valutazioni, nelle sue mosse, quindi di fatica veramente a trapelare, a raggiungere la parte superiore dei notiziari online. Però ecco, al di là di questa curiosità, di questo aspetto un po' diciamo così bizzarro, che mi sembra però doveroso riportare, il punto cardinale, il punto che si discute oggi è questa crescita continua, incessante della liquidità in pancia alla Berkshire Hathaway. Dalla figura possiamo notare come al momento la liquidità abbia raggiunto nel terzo trimestre, secondo il Financial Times, che chiaramente riporta i dati del bilancio trimestrale di Berkshire, ha raggiunto un nuovo massimo assoluto, peraltro proseguendo una sequenza che va avanti da diverso tempo. Ora, qual è il primo aspetto che possiamo osservare? Sicuramente la liquidità è cresciuta nel terzo trimestre, per la verità il dentello è stato più marcato nel secondo trimestre, ma il punto è l'altro. Il punto è questo, è evidente, è pacifico che un'azienda in salute che cresce veda a crescere anche il cash, la liquidità. La mia azienda è cresciuta in questi ultimi 25 anni, è cresciuto il fatturato, sono cresciuti i clienti, sono cresciuti i ricavi, sono cresciuti i profitti, parte di quei profitti non vengono distribuiti, ma vengono accantonati, costituiscono liquidità. Questo non vuol dire che un'azienda in salute diventi più cauta, diventi più conservativa, semplicemente la liquidità è un riflesso delle dimensioni complessive dell'azienda in questione. Questo vale anche per Berkshire Hathaway, qui in maniera molto grossolana, ma spero abbastanza efficace, ho sovrapposto l'andamento della liquidità che ci ha fornito questo fine settimana nel Financial Times, è sempre l'istogramma in blu, qui un po' più smussato, un po' più meno visibile, perché è sovrapposto con l'andamento della quotazione di mercato di Berkshire dal 1990 ad oggi. Mi sembra evidente che ci siano delle sovrapposizioni, da questo punto di vista la crescita esponenziale della liquidità in portafoglio non è così eclatante, è semplicemente il riflesso della crescita contestuale, contemporanea della capitalizzazione del titolo di cui stiamo discutendo. Quindi possiamo già iniziare a sospettare che il fenomeno così patologico, secondo alcuni, così motivo di allarme, di serio allarme, è una tempesta in un bicchiere d'acqua. Dobbiamo fare un supplemento di indagine, però prima vorrei fare un passo indietro, cioè vorrei sapere, vorrei chiedermi se Buffett è ancora un riferimento assoluto, fermo restando sicuramente l'efficacia dell'operatività mostrata al mondo dagli ultimi 40 anni, se è veramente un faro, un riferimento, un dogma imprescindibile, come per molti è Warren Buffett, o se può essere messo garbatamente in discussione. Allora facciamo un confronto, facciamo il confronto fra un investimento nella Berkshire Hathaway, abbastanza difficoltoso, adesso un po' meno, ma insomma non tutti si possono permettere di acquistare un'azione di Berkshire Hathaway, ed è francamente anche poco comodo andare, se si ha la voglia, alle assemblee nel Nebraska, un po' freddino per la verità, per ascoltare cosa ha da raccontarci Buffett. Però al di là di questo aspetto, qui osserviamo il confronto fra la quotazione di Berkshire Hathaway, azione di classe A, e la Standard & Poor's 500. Attenzione, Standard & Poor's 500, total return, perché Buffett non distribuisce i dividendi, la Berkshire reimpiega gli utili e non li distribuisce agli azionisti che si devono, fra virgolette, accontentare del capital gain, dell'apprezzamento nel lungo periodo. Pertanto è giusto confrontare il prezzo di Berkshire al prezzo dello Standard & Poor's, che includa anche i dividendi, perché lo Standard & Poor's invece è più generoso, è meno avaro, quindi distribuisce i dividendi trimestralmente a chi compra un banalissimo ETF, come tanti sono disponibili su comuni piattaforme senza andare in Nebraska. Cosa vediamo? Vediamo che effettivamente dal 90, dal 91 fino al 2008 la linea ha puntato verso l'alto, pur fra alti e bassi, cioè Berkshire ha fatto meglio del mercato, Warren Buffett ha battuto Wall Street fino al 2008, quando il rapporto fra i due prezzi ha raggiunto un culmine di oltre 80 volte. Dal 2008 la mitica sovraperformance, capacità di far meglio del mercato è venuta meno. In questo momento il rapporto è sceso da 80 a circa 55 volte, con un profilo sicuramente irregolare, ma sicuramente con i tempi migliori che sono passati. Quindi c'è stata una perdita di leadership, una perdita di capacità di sovraperformare, sicuramente. Dal 2008 in poi io direi che l'evento catartico è stato il fallimento di Lehman, quindi qui in questo confronto ho posto pari a 100 i prezzi al 15 settembre del 2008 dello Standard & Poor's, sempre total return, e di Berkshire Hathaway, azioni di classe A. È evidente che entrambe le linee abbiano puntato verso l'alto, è altrettanto evidente che Berkshire negli anni ha seguito con affanno l'andamento del mercato azionario in termini omnicomprensivi, quindi considerando anche i dividendi che sono erogati, con un gap di performance che in questo momento ha raggiunto i 100 punti. Quindi senza rischiare di mancare, di sembrare riguardosi nei confronti di Warren Buffett, al cui va sicuramente la nostra ammirazione e la nostra stima non incondizionata, però è anche vero che in un arco di tempo di ormai 16 anni, comprando semplicemente un ETF sullo Standard & Poor's 500 avremmo fatto decisamente meglio in misure pari a un centinaio di punti, quindi la differenza c'è. Quindi questo è un po' per smitizzare, quindi per parlare di un essere umano che può essere, può avere delle argomentazioni che richiederebbero una maggiore capacità di analisi di una osservazione superficiale, che tra l'altro risulta anche abbastanza difficile, perché se osservassimo per un attimo il bilancio di Berkshire Hathaway, come di qualunque bilancio, abbiamo una realtà che non è così facilmente intelligibile. Chi vi parla ha un piccolo diploma di ragioneria, oltre a studi universitari, però non vi nascondo che faccio un po' di fatica a comprendere tutte le voci che sono riportate nello stato patrimoniale della Berkshire Hathaway. Qui è una rappresentazione su base trimestrale, quindi sono le varie trimestrali dal 2022, dalla seconda metà del 2022 in avanti. Manca ancora la trimestrale appena pubblicata, che probabilmente sarà resa nota nei prossimi giorni, però tutto sommato se ricordate l'andamento dell'istogramma della liquidità, pur avendo raggiunto nel Q3 nel terzo trimestre, il nuovo massimo, non è stata così devastante in termini di crescita rispetto al secondo trimestre che qui vediamo. Qui da questi dati che non vi chiedo di esaminare, di valutare singolarmente, possiamo soffermarci su quelle che sono le voci in questione. Finalmente dopo 15 minuti stiamo arrivando al dunque. Qui da questo bilancio estrapoliamo quello che è il cash, quindi la liquidità in senso stretto, cioè materialmente il denaro nelle casse di Berkshire Hathaway, ed è la parte superiore sempre dal 2022 trimestrali del Q3, Q4 e via via fino al secondo trimestre 2024, quindi cash e strumenti di liquidità di breve termine, quella voce che nell'ultimo trimestre ammontava 42 miliardi di dollari. In basso vediamo gli asset complessivi, quindi la parte patrimoniale dell'azienda e poi probabilmente non sono sicurissimo, mi piacerebbe essere confortato se qualcuno che segue in questo momento ha competenze di contabilità, di principi contabili americani mi conforterebbe se me ne fornisse conferma, probabilmente la voce che qui vediamo come securities rappresenta proprio le mobilizzazioni finanziarie che sono la parte preponderante della liquidità a cui fa riferimento i Financial Times e tutti gli altri media che hanno riportato la notizia, quindi questa crescita esponenziale che per la verità mi sembra già una non notizia. E quindi vediamo che ci sono queste due voci, la somma della liquidità in senso stretto e degli investimenti, delle mobilizzazioni finanziarie costituiscono quella voce terminale, quella che abbiamo riportato come cash più treasury, che completano questo prospetto e che andrebbe a questo punto relativizzata, perché come abbiamo visto la crescita della liquidità è un fenomeno fisiologico che non necessariamente costituisce una evidenza di crescente avversione al rischio. Se già cominciassimo a confrontare in maniera grezza, quindi senza tanti fronzoli, le due voci, vedremmo che in effetti entrambe, almeno nella finestra temporale disponibile, quindi negli ultimi otto trimestri, entrambe le misure sono cresciute verso l'alto, è cresciuta sicuramente il valore patrimoniale, quindi l'attivo patrimoniale che è la linea arancione, è cresciuta tutto sommato anche la liquidità, si potrebbe obiettare da questo punto di vista che la liquidità in senso stretto alla penultima rilevazione di giugno 2024 si colloca su livelli più bassi rispetto al picco toccato un anno fa, quindi già questo è un primo dato. Però, come sicuramente concorderete, occorre fare delle valutazioni in termini relativi, proprio per tener conto della crescita dimensionale e quindi della lievitazione fisiologica di queste voci del bilancio, di tutte le voci del bilancio. Qui osserviamo il confronto fra cash, quindi liquidità in senso stretto, e asset complessivi, che è un dato tutto sommato abbastanza stabile, potremmo dire, quindi abbastanza non così elevato, non così crescente come una stampa un po', consentitemi di dire, superficiale, ha dipinto, stampa anche qualificata per carità, ha dipinto nelle ultime ore. Quindi è un dato che non è particolarmente sinonimo di, come dire, di una severa, una feroce, una brutale avversione al rischio e quindi timori di... Però, come abbiamo visto dal bilancio, da quel estratto, da quel frammento dello stato patrimoniale, il cash è una parte contenuta della liquidità in senso ampio, perché Buffett non disprezza il 4,3% che i treasury decennali offrono in questo momento e quindi, oltre agli strumenti liquidabili a breve termine, dobbiamo anche considerare la liquidità in senso ampio, quindi quella misura che comprende anche le immobilizzazioni finanziarie, quindi i treasury di durata pluriannale tipicamente decennale. Qui rivediamo quindi gli asset complessivi sempre in arancio, vediamo la somma di queste due voce, quindi liquidità in senso stretto e liquidità in senso ampio, o meglio strumenti liquidabili, strumenti a lunga scadenza facilmente liquidabili. In termini assoluti si ha sempre quella sensazione di una crescita meno brillante di quanto si possa pensare sulla base dei risoconti giornalistici. Ecco, ripeto, devo ancora sottolineare il beneficio a scanso di equivoci, insomma, che manca il dato ancora del terzo trimestre, eventualmente lo renderò disponibile qui nei commenti, al video, non appena pubblicato sulle catforme in nostro possesso, però ecco, come si vedeva dal dato generale che il Financial Times è pubblicato per il terzo trimestre, ecco, una discrepanza non è così marcata rispetto al secondo trimestre che qui abbiamo visto, c'è un dentello, per la verità, meno accentuato di quello che è la crescita che nel secondo trimestre è stata sperimentata in termini di liquidità complessiva rispetto al primo trimestre. Ma per concludere su questo aspetto, vediamo quindi il confronto fra la liquidità in senso antio, quindi cash più US Treasury, quindi strumenti di investimento a lunga scadenza, facilmente liquidabili, e gli asset complessivi. Quindi questa mitica corsa forse nata, brutale, no, alla liquidità, è una non notizia, semplicemente perché evidentemente è un dato che negli anni è andato calando, quindi non si riesce a scorgere una fuga verso la liquidità. Il rapporto fra liquidità e asset complessivi del mercato è un rapporto che nel tempo è addirittura andato calando, pur fra alti e bassi. Siamo passati da un picco del 38% a meno del 30% nel secondo trimestre che probabilmente sarà risalito verso il 34% che sembra essere, 34-35% degli asset complessivi che sembra essere la proporzione della liquidità a disposizione. Quindi la morale qual è? La morale è che i media devono vendere notizie, non informazioni. I media devono vendere emozioni, devono vendere hype, sicuramente non vendono previsioni operative. La notizia riportata è stata diffusa, è stata propagata in maniera virale sui social da quelli più generici a quelli un po' più specializzati, diventerà sicuramente mainstream nelle prossime ore che ci separano da questo evento che sono le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, però probabilmente farà questa notizia alla fine di tutti gli altri avvenimenti, accadimenti presuntamente apocalittici che ci hanno accompagnato in questi due anni. Ricorderete sicuramente dal falimento di alcune banche regionali che avrebbe dovuto costituire il momento l'IMAN 2.0 all'aumento brutale dei tassi di interesse che non avrebbe dato scampo all'economia americana, con il corollario poi della curva dei rendimenti invertita e più di recente una SEM rule che avrebbe dovuto garantirci una recessione che sicuramente non ci sarà più, non per colpa di questo, non per effetto di questo modello che è stato comunque neutralizzato per la stessa missione della sua ideatrice, quindi se ci sarà non sarà per la SEM rule e sicuramente non ci sarà nei prossimi 6-9 mesi, quindi per passare ovviamente alla tragedia degli eventi bellici in Medio Oriente e con il corredo di minacce incombenti di terza guerra mondiale. Tutti questi eventi che ci hanno accompagnato non hanno impedito al mercato azionale di crescere in questi ultimi due anni, ma ecco prima di salutarci vorrei fare una riflessione è bene informarsi, è bene ragionare un attimo con Grano Salis, Berkshire Hathaway è stata fino a 16 anni fa un'azienda strepitosa in termini di capacità di sovraperformare il mercato, negli ultimi 4 anni se ricordate dal prospetto che rapportava Berkshire e la Sunderim Pool 500, negli ultimi 4 anni la linea ha puntato comunque verso l'alto pur mantenendo nel complesso una inclinazione negativa, in effetti se confrontassimo le performance a 4 anni di Berkshire da una parte e dello Sunderim Pool 500 dall'altra parte noteremmo un gap a favore di Buffington di oltre il 40%. Berkshire ha battuto lo Sunderim Pool 500 da ottobre 2020 a ottobre 2024 e misura superiore ai 40 punti percentuali. Ora è evidente che c'è un fenomeno ciclico, c'è un'alternanza fra questi due termini di cui stiamo discutendo. Anche nel 2010, dopo il bear market devastante del 2000-2008, il gap di performance raggiunse queste proporzioni, più 40%, ma quello fu il momento in cui un investitore avveduto avrebbe dovuto disimpegnarsi da Berkshire e puntare sul mercato azionale nel complesso. Quando è il momento opportuno per puntare sul saggio di Omaha? Quando lo scarto, quando la differenza di performance scende al di sotto dei meno 40 punti percentuali, come è successo nel 2012, nel 2014 e a inizio di questo decennio. Quando invece la differenza di performance raggiunge, supera, sale oltre il più 40%, sembra giunto il momento opportuno di fare delle riflessioni. Vale a dire se Warren Buffett vende Apple, vende azioni, noi vendiamo Warren Buffett e con il ricavato compriamo uno standard in P500. Grazie per l'attenzione e arrivederci.